Ciao a tutti, oggi voglio parlare di due prodotti della linea Apix Bioseline, sedigola perle e sedigola spray. Due prodotti salvagola per evitare problemi soprattutto in acuto, sia durante il freddo ma anche la stagione calda o soprattutto quando, come in questo periodo, ci sono sbalzi di temperatura che incidono molto a livello della nostra gola. Sedigola perle e sedigola spray contengono gli stessi principi attivi nonché i semi di pompelmo e propoli e l'erisimo. L'erisimo va a nutrire e sfiammare le corde vocali. In più l'ese di gola contiene al suo interno l'equerizia che è un cicatrizante di tutte le mucose e anche il timo, dunque un'azione balsamica, mentre lo spray contiene acido ialuronico per andare a sfiammare e lubrificare le mucose quando sono irritate. Lo spray va a fare un'azione locale, dunque va bene se in prevenzione che in acuto, da adulti e da bambini non contiene alcol, in prevenzione una nebulizzazione la mattina o una la sera, mentre in acuto fino a quattro volte al giorno 3-4 nebulizzazioni. L'ese di gola invece, meglio da adulti, per la concentrazione di principi attivi soprattutto balsamici e anche la presenza di 6 perle al giorno. Si possono utilizzare in prevenzione, ma anche per chi utilizza tanto la voce come azione disinfettante e anche antibatterica a livello proprio del cavo orale, ma anche per chi soffre di raucedine e tosse, entrambi senza glutine e senza lattosio.